Il futuro è a Lioni, in provincia di Avellino, un esempio concreto di smart city in grado di sfruttare tutte le potenzialità del presente. Presentati a Città della Scienza i risultati del progetto Borgo 4.0, 16 progetti tra infrastrutture di ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, progetti di sperimentazione dei modelli e di innovazione derivata. Un laboratorio in ambiente reale in grado di testare le soluzioni della mobilità del futuro, nell'ambiente urbano, del piccolo centro nella Vellinese, da mesi circa l'anno infatti, auto a impatto ambientale zero, ma anche le prime auto a guida autonoma. Come spiegano Paolo Scudieri e Gianmarco Giorda, rispettivamente presidente e direttore generale di Anfia Automotive. Sempre sostenuto che le tecnologie devono essere metabolizzate dalla società civile, dagli uomini, dai giovani, che devono assolutamente non avere un impatto negativo, violento dalla tecnologia, ma quindi io parlo sempre di nuovo umanissimo, quindi l'intimizzazione e la giusta gestione tecnologica del futuro. In un unico borgo, cioè a Lione, in un unico paese, siamo stati in grado di sperimentare quasi tutte le tecnologie che riguardano i domini della mobilità del futuro. La piattaforma Borgo 4.0 è stata realizzata con il coinvolgimento di un partenariato pubblico privato, che coinvolge 53 imprese di settore, 3 centri di ricerca pubblici, con la partecipazione di 5 università campane, il CNR, per complessivi 200 ricercatori coinvolti. La piattaforma inoltre ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Campania di quasi 46 milioni di euro, come spiega l'assessore alla ricerca e all'innovazione alle start-up Valeria Fascione. Un'auto che dialoga col territorio e riporta i dati, quindi c'è una valenza pubblica, sociale.